Innanzitutto dobbiamo fare una precisazione. I pazienti non verranno assolutamente trasferiti nel nostro piano. È previsto che i pazienti vengano gestiti direttamente all'Albusinco, quindi non ci sarà alcun trasferimento tra un ospedale e l'altro con l'utilizzo dell'unica sala esistente. È vero che sono due sale operatorie che devono essere strutturate, altre due verranno messe a punto e quindi in tutto il Albusinco si ritroverà ad avere cinque sale. Quello che a noi interessa maggiormente naturalmente è che i pazienti non abbiano alcun tipo di documento e per quanto riguarda la nostra organizzazione questo è stato previsto. Questo l'abbiamo adesso ribadito nella sesta commissione sanità.